ah 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 ragazzi è successo l'incredibile l'incredibile vincevamo 2 a 0 il primo tempo partì la giocata bene non venisse comunque bene siamo stati padroni del campo vincevamo 2 a 0 siamo riusciti a perdere con l'apwell bersheva 3 a 2 con l'apwell bersheva la marca di scarpe è riuscita a vincere grande no raga no 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 non è possibile abbiamo perso 3 a 2 vincevamo 2 a 0 siamo fuori dall'europa league campionato buttato europa league buttato sicuramente non abbiamo perso oggi l'europa league comunque campionato buttato europa league buttata grandi eh grandissimi i tifosi sempre al seguito anche oggi erano 500 600 quanti erano andati a giocare a gerusalemme andati a giocare in terra santa mamma mia ragazzi che schifo sono una bestia sono incazzato nero siamo siamo la barzelletta d'italia siamo la barzelletta d'italia murillo murillo di merda uscite fuori stimatori di murillo uscite fuori dai dai che mi venivano a commentare metti non mi piace perché io critico murillo critico il loro miglior difensore bravo murillo forte murillo d'ambrosio il più forte terzino d'italia ragazzi il grande danilo d'ambrosio devono giocare gli italiani si sono accordo anch'io ma meglio un italiano della primavera non questa pippa di d'ambrosio che veramente una sega di giocatore una sega di giocatore e poi devo giocare gli italiani meglio fate giocare la nocchia ma è meglio di murillo ma tanto murillo sbaglia la nocchia sbaglia preferisco sbagliare l'italiano che quel morto colombiano del merda tutto rispetto per i colombiani e guardate io veramente lo so o come ripeto io ho finito i titoli non c'ho più che titoli mette senza titoli li faccio senza titoli video senza titoli no veramente guarda so una bestia ma una bestia che se io ero l'allenatore questi a casa ci ritornavano o se ci ritornavano a botte cioè gli facevo un culo così no no siamo marci siamo marci la mano di pioli si è vista nel primo tempo siamo marci il secondo tempo l'apuel l'apuel bersheva che non ha mai segnato europa league gli unici gol che ha fatto l'ha fatti contro di noi grande grandissimi grandi siete veramente delle merde come dico sempre siete delle merde delle merde altro che torna a fare cinema moriamo ammazzati stronzi per carità guarda non ho parole non ho parole ci vediamo al prossimo video ora meno male che esiste youtube che mi posso sfogare posso incazzarmi meno male che esiste youtube guarda siete arrivati alla fine del video se non siete iscritti iscrivete vi manca poco per i mille almeno con la soddisfazione ce la farò a vecchia a fine dell'anno l'inter non me ne dà almeno quella ce la farò a vecchia sperava quindi se tu non sei iscritto e stai vedendo il video iscriviti fammi sto favore poverello mi servono iscritti a parte i scherzi è un traguardo importante quindi spero che da arrivacce presto a sti mille ci sentimo al prossimo video un saluto da giasmatti qui è sempre peggio bello